Ciao ragazzi, eccomi tornata un'altra volta con un mini haul questa volta però è davvero mini mini cerco di non dilungarmi troppo perché poi c'è una sorpresa per voi come avete letto insomma dal titolo allora oggi sono stata un pochino in giro e ho preso delle cosine allora sono stata da Kiko come vi ho detto Emanuele ha abbassato ulteriormente i saldi sconti e ho preso un altro color up i matitoni della Daringame che adesso stanno a 3 euro io ho preso quello blu che ho provato per ora una sola volta anche perché non mi trucco spessissimo di blu anche perché mi piace abbinare quasi sempre il trucco all'outfit e quindi ne ho preso uno diciamo un po' più neutro che è questo beige rosato che è il numero 8 ve lo faccio vedere per chi non li conoscesse sono questi matitoni automatici davvero molto molto comodi sono scriventissimi l'unica cosa che vanno sfumati subito perché tendono ad asciugarsi in fretta e praticamente una volta che si asciugano da lì non li leva più nessuno perché sono davvero molto molto resistenti non vanno nelle piechette durano davvero davvero tantissimo quindi proprio per questo ho voluto prendere questo beige rosato molto molto brillante come vedete e ho pensato che è carino sia da solo per dare luce all'occhio e specialmente quando faccio trucchi veloci tipo oggi e anche insomma come base ombretto essendo comunque appunto un colore molto chiaro quindi ho preso questo qui 3 euro e poi sono stata da Scarpe Scarpe dove era andare essenzialmente per lo stand Essence invece nello stand della Catrice ho trovato dei prodottini scontati a 1,99 euro e se avete uno stand Catrice nelle vicinanze fateci assolutamente un salto perché ci sono delle cosine davvero molto 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 carine e appunto a 1,99 euro quindi secondo me ne vale la pena come prima cosa ho preso un pennello da cipria perché come avete visto nei prodotti finiti ho dovuto cessinare quello che utilizzavo praticamente tutti i giorni ed è il powder brush è carinissimo perché si presenta in questo assoccetto che appunto si apre e questo qui è il pennello è abbastanza grandicello ed è davvero morbidissimo vi giuro morbidissimo tra l'altro io con i pennelli Catrice mi sto trovando davvero benissimo quello che utilizzo di più in assoluto è quello da eyeliner comunque sono davvero buoni e visto che se non ricordo male vengono 3,49 o 4,99 una cosa del genere a prezzo pieno 1,99 euro mi è sembrato davvero ottimo poi tra l'altro mi serviva quindi la scusa pronta e l'ho preso un'altra cosa che ho preso sempre a 1,99 euro è questa palettina è davvero carinissima si chiama Absolute Eye Color color ed è la numero 100 franza in yogurt non so se lo leggete perché ci sono le scritte quelle specchiate ed è questa palettina di quattro colori che ha appunto dall'alto questo marrone con una punta di malva all'interno questo qui che è un besolino molto molto chiaro sembra così bianco dalla videocamera ma più sicuro che è un besolino questo che è un besolino rosato un po' più scuro e questo qui che ha un color tortora diciamo marrone tortora è davvero carinissima vi faccio vedere anche gli swatch e voi direte insomma per 1,99 euro ha fatto benissimo quello che a me si vede meno è il besolino questi qui sono gli swatch come vedete il più scrivente è in assoluto questo marrone con questa punta di malva all'interno che vi assicuro che è bellissimo poi c'è questo besolino i besolini si vedono poco però vi dico che il besolino questo qui più chiaro in realtà si nota di più dalla video non si vede per nulla però vi assicuro che si nota di più comunque anche questa 1,99 euro l'unica cosa tra virgolette brutta di quando ci sono queste super offerte è trovare un prodotto che non sia stato già aperto e swatchato perché la gente è ignorante e non usa i test a parte questo sono super contenta perché mi sembra davvero carinissima anche come palettina da borsetta poi papà sono usata a questo sapone e ho preso in offerta a 99 centesimi questi dischetti di cotone della Cotton Sound e sono quelli che sono da un lato morbidi per lo struccaggio e dall'altra parte c'è scritto che hanno un lato in bambù che fa un leggero peeling sono super curiosa di provarli sperando che non ho preso una solaccia vi farò sapere e sempre da questo sapone ho preso questo smatto della Maybelline ne ho presi due a dire la verità e che erano in offertissima se non sbaglio anche usiamo un euro un euro e qualcosa ho preso il numero 6 Bab... 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 Suss questi nomi complicati mi ho detto che è questo bellissimo fucsia è veramente un fucsia un fucsia fighissimo e poi abbiamo preso anche il numero 349 Power Red non so se mi metto a fuoco che è questo classicissimo rosso tra l'altro mi trovo stra bene perché ne ho già un altro dei color show della Maybelline e sono davvero carini resistono anche abbastanza più di Kigo sicuramente e quindi mi sembrava più che conveniente e ultimissima cosa sono stata più veloce della luce e da Kiabi ho preso queste ciabattine sono troppo belline magari se le metto anche dritte sono queste ciabattine poi con Mini e Topolino no sono troppo belline anche qui hanno Mini e Topolino hanno sia la targhettina Disney che appunto quella di Kiabi e vengono 10 euro quindi poi erano carine ora passiamo alla cosa che state aspettando da quando avete aperto questo video ovvero ho preparato un regalino per voi che mi seguite sempre che mi supportate e soprattutto mi supportate specialmente quando parlo 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 e quindi insomma ci tenevo tanto a questa cosa e da un po' io la sto preparando e sono insomma contenta ce la faccio? si e sono contenta che sia arrivato appunto il giorno in cui decisi di mostrarvelo perché è completo il pacchettino e come sempre ci tengo a dire che sono prodotti comprati da me e cioè non mi ha omaggiato di niente nessuno però lo faccio davvero con piacere appunto per cioè per ringraziarvi di seguirmi sempre allora iniziamo subito ci sono un bel po' di cosine vi dico è un giveaway abbastanza truccosino ma ci sono anche due intruse diciamo ve le faccio vedere subito e si tratta di due Yankee Candle ormai penso lo sappiate davvero tutti e sto diventando pazza per queste Yankee tant'è che presto vedrete un nuovo video di Yankee perché mi è appena arrivato il pacco e ci tenevo insomma a metterle appunto nel vostro pacchettino e ho scelto Midsummer Night che no ragazzi è in assoluto fra le mie preferite è buonissimissima e ho cercato di vendere fragranze non troppo particolari e soprattutto perché non a tutti piacciono le stesse fragranze insomma io spero che vi piacciono e poi Amber Moon che mi piace tantissimo e poi come continuo a dirvi a me ricorda un profumo maschile non so perché quindi queste due poi ho scelto questo correttore della Elf che è il Tone Correcting Concealer è la colorazione Light Beige questo qui è il vostro ovviamente chiuso vi faccio vedere la colorazione dal mio e appunto il Light Beige questo qui ha il pennellino questo qui l'applicatore così all'interno e questa qui è la tonalità l'ho messa nel posto più scomodo al mondo penso sono un po' su eccola qua è davvero un po' correttore io pari questo correttore adoro l'odore non lo so ha un profumo buonissimo e amo la media coprenza a me piace moltissimo e quindi insomma ve lo volevo far provare anche a voi poi ve l'avevo anticipato nell'ultimo video che c'era un piccolo regalino per voi fra le cose che avevo comprato infatti ne avevo presi ben due di rossetti wet e wild e ho scelto anche per voi il red velvet che è appunto lo stesso che ho preso io che appunto vi ho fatto vedere nel video magari ve lo lascio qui così se volete vedere lo swatch ma è quello che ho su adesso in caso vi interessi comunque vi dico che è davvero carinissimo questo rossetto sempre in tema labbra ho deciso di prendere questa ultra glossy lip pencil di Kiko è la numero 615 tra l'altro l'ho presa straconvinta ma vi giuro straconvinta è questo colore qui ovviamente non l'apro però l'ho presa perché ero convinta fosse identica una che avevo a casa questa è la mia che invece è la 614 ma io vi assicuro che si assomigliano davvero tantissimo vi faccio vedere la 614 che io avevo visto il tester ho provato il tester in negozio e a me ricordava da morire appunto la mia quindi io penso che sia insomma su questo punto di colore ma forse è un pochino più violace l'altra anche dal packaging è comunque questa matita labbra che va usata come rossetto e lascia questo effetto lucidino proprio glossato sono tra l'altro profumatissime queste matite la mia questa qui sa tipo di frutti rossi di berry di mirtili non so non so questo di cosa sa però a me piacciono tantissimo quindi insomma ci tenevo a farvi provare anche una di queste ripeto non l'ho nemmeno aperta perché non mi sembra il caso e infine ho preso anche per voi uno smalto della Maybelline e ho scelto lo stesso fucsia che ho preso per me perché insomma secondo me è davvero bellissimo soprattutto d'estate c'è anche l'adesivo a acqua e sapone che io cioè volevo levare questo adesivo perché un po' mi urta però ho paura che poi potrebbe aprirsi lo smalto magari durante l'aspirizione quindi evito e quindi questi qui sono i regalini che ho preparato per voi spero davvero che vi faccia piacere a me fa tanto piacere e ci sono delle piccole regoline da rispettare e comunque vi lascio anche scritto tutto quanto giù nell'info box ma intanto ve le dico la prima regola è quella di essere iscritti al mio canale di mettere mi piace alla mia pagina facebook trovate comunque tutti quanti i link relativi giù nell'info box per iscrivervi al mio canale basta cliccare sull'iconcina che trovate o qui o qui non so dove c'è appunto la mia fotina e lì potete cliccare e vi indirizzo al mio appunto la schermata del mio canale e potete iscrivervi e se volete potete seguirmi anche su instagram insomma voleva una cosa facoltativa comunque come vi ho detto lascio tutti quanti i riferimenti giù nell'info box e per partecipare bisogna commentare il video non c'è bisogno di scrivere partecipo potete commentare tranquillamente con quello che vi pare perché ogni commento sarà comunque conteggiato come cioè sarà comunque conteggiato per partecipare io comunque ad ogni commento vi risponderò ovviamente e vi darò anche un numero questo perché perché il giveaway non sarà solamente su youtube ma lo farò partire in contemporanea anche su instagram quindi vediamo se riesco a spiegarmi e se vedete nei commenti di youtube che passo ad esempio dal numero 15 al 23 è perché i numeri di mezzo magari sono su instagram io li darò in ordine di come ogni volta vado a controllare quindi cioè quello è il senso non c'è nessuna macagna sotto è solamente che lo faccio in contemporanea su youtube e su instagram questo qui è il senso quindi niente queste sono le regole più importanti ora passerò da stronza con questa cosa che sto per dire ma se la vostra intenzione è quella di iscrivervi partecipare al giveaway e dopo due giorni cancellare l'iscrizione fate anche a meno di farlo perché è una cosa brutta questa da dire ma anche lo scorso giveaway poi sono scese di tante iscrizioni a me questa cosa dispiace ma non per l'iscrizione in sé perché io non lo trovo corretto perché anche io partecipo spesso al giveaway soprattutto su instagram e non ho mai 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 levato nessun mi piace alla pagina e non mi sono mai disiscritta da nessuna parte perché secondo me è una mancanza di rispetto perché se quel canale non mi interessa o quella pagina insomma non mi interessa e basta e non mi inizia ad interessare da fare un giveaway questo è il senso e cioè preferisco che partecipano ragazze davvero interessate davvero che mi seguono o che mi seguiranno e non che due giorni dopo mi ritrovo 20 iscrizioni in meno questo è il senso so che è stata una cosa un po' brutta e da stronzetta dire però ci tenevo insomma e niente ragazze sono stata molto brava perché non è venuto troppo lungo yeah io vi mando un bacione vi ringrazio ancora spero di partecipare in tante se vi va mettete il video fra i preferiti mettete un mi piace fatelo girare insomma taggate delle amiche anche su facebook se vi va in modo che gira un pochino e ci vediamo al prossimo video ciao ma che ciao andiamo bene mi sono scusata una cosa importantissima quando chiude il giveaway il giveaway chiude il 14 febbraio alle ore 23 e il 15 mattina o il 14 dopo le 23 insomma ci sarà l'estrazione ma sicuramente il 15 troverete il video con l'estrazione qui appunto su youtube l'estrazione avverrà tramite il sito random.org dove appunto io inserirò da che numero a che numero ci sono i partecipanti e uscirà a random un numero ho fatto un giro di parole e quindi insomma meno scordare di dirvi questa che è una fra le cose più importanti e ora giuro che vi lasso ciao ciao Ciao!